Aspetta uno che vuole parare Sono una squadra che si lavora? Grazie. Non hai l'elettro? Ma no, non vuoi mica far male. Non hai l'elettro? Non hai l'elettro? Non hai l'elettro? Non hai l'elettro? Ma io dovrei andare l'elettro? Ma se una roba era mille volte meglio, una volta non c'è nessuno. Una volta che vibravano i venti. Eh vabbè, ma non si può perché... Ho visto tutto. No, veramente una volta si sentiva vibrati qua. E' un'epoca... Guarda'le, su, attascano a casa, fai fetto d'omino. Ma non hai, tu guarda' noi... Si ha guardato la piedra portar tescamblare. Si cercava bene... Sotto marino bene detto su tutto. Una navide. Ma non hai l'elettro what? Anche uno dei coccati in fondo. Ma che bella? Que bella! Grazie. 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 e ci stiamo. Sedici, credo che ci stiamo. Sedici. Sedici, eh. No, perché sono tutti quelli che siamo qua adesso? Cioè, oggi non siamo, non fatiriamo. Ma che cazzo è Riccardo? Ma che cazzo è Romano? Eh? Sommati in acqua. In acqua. Vabbè, ma... Sommati in acqua. Ma che cazzo non si è arrivato? Sommati in acqua. Sommati in acqua. No, no, non c'è una mamma. Perché sei qui? La mia, tiene, buono, sette mesi. No, il personale. Sommati. Poi la venetina è tenuta a cinque. Sommati in acqua. 12, 12. 12. Eheheheh, shhh. Questo, ha un pallicolo per la partita? Sì. Eh, perché non lo fanno. La prima che gira sulle giuste. Ma è che sei in prima. Ma è che sei uno. Adesso prenda mano... Grazie. 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 Grazie.